Benvenuto al fronte! 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 Grazie ragazzi! Grazie ragazzi! Grazie ragazzi! Grazie! 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 Sto ricaricando, guardate che difficile! Ricarico, comprendemi! Carate! Sto ricarico! Uccidete quei bastardi! Uccidete quei maledetti bastardi! Carciate! Caracali! 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 Grazie a tutti! 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 Bomba lanciata! Bomba lanciata! Bomba lanciata! Grazie a tutti! 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 Colpiamoli duro, ragazzi! È caduto! È imbalanciato! Torna tra le linee! E dà di bacco! Torna indietro! Stupido! Torna al tuo posto! Torna al tuo posto! Torna al tuo posto! Torna al tuo posto! Grazie a tutti! 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 a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! a tutti! Grazie a tutti! a tutti! a tutti! a tutti! a tutti! a tutti! avanti! a tutti! 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 colpiamo! a tutti! 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 a tutti!